Guarda chi c'è qui! La nostra impiegata del mese, Panna Spray The Bic. Sempre pronta all'azione! Una tipa in gamba che sa gestire la pressione. Affronta ogni situazione a mente fredda. Wow, questo sì che è un fiocco di panna. Ottimo lavoro, chef. Ah, e se non bastasse? È anche molto pulita. Vuoi un consiglio? Prendila nella tua squadra. Panna Spray The Bic, senza alcun dubbio. The Bic, creata per le mani dei professionisti.